ciao ragazzi come state? spero tutto tutto benissimo io insomma perchè ho il ciclo e non ho le forze di fare niente infatti neanche ho messo le luci colorate perchè proprio non facciamo sbatti comunque vabbè non è quello il punto oggi festeggiamo il secondo compleanno del canale che in realtà non so esattamente che giorno ricade perchè con le date faccio schifo però so che era a febbraio scusate se mi tocco sempre i capelli ma non mi piacciono li ho lavati ieri ma non mi piacciono allora per quest'occasione ho scelto di portare il video delle supposizioni quindi che significa voi mi avete scritto delle frasi che iniziano con secondo me io penso eccetera eccetera e io dirò se avete indovinato o meno ne ho ricevute un po' quindi vi ringrazio e vi nominerò uno ad uno ovviamente allora le prime supposizioni vengono da parte di vali smr la mia amica valentina con un bacio la prima dice secondo me sei molto dolce e gentile ma spesso tendi a mettere te stessa in secondo piano per non ferire gli altri allora asni nel senso sono molto gentile ma non sono molto dolce cioè poi dipende cosa si intende però non sono quella persona affettuosa ecco non dimostro molto il mio affetto e spesso tendi a mettere te stessa in secondo piano per non ferire gli altri io so perché lei lo dice ma perché io e lei ci sentiamo tutti i giorni quindi sa anche cose che voi non sapete e quindi sì cioè in questo momento sì però non è una cosa che faccio solitamente la seconda supposizione sempre da parte di valentina è secondo me sei una persona che se si mette un obiettivo in testa lo raggiunge e anche se ci sono difficoltà o ci metti tanto tempo questo è vero e ad esempio vi faccio un breve scursus della mia vita e io ho sempre fatto schifo in matematica e infatti poi alle superiori hanno sospettato che io fossi discalculica però poi non hanno fatto accertamenti e io onestamente non mi sono informata perché ho veramente grandi difficoltà e quindi alle medie mi dissero che io avrei potuto fare tutto tranne il liceo scientifico e che se lo avessi fatto non avrei superato neanche il primo anno e quindi io l'ho presa proprio come una sfida personale e infatti mi sono diplomata allo scientifico sono mai stata bozzata sono un anno che è stato il terzo che di solito è l'anno più difficile mi sono portata a matematica e fisica ma per il resto degli anni no e quindi ce l'ho fatta poi dovevo fare il test di teoria della patente e l'istruttore mi disse che non era il momento e che secondo lui non l'avrei passato e invece l'ho passato con due errori mi sembra forse sì comunque l'ho passato quindi l'importante è quello per cui sì se mi metto un obiettivo lo raggiungo il problema nel mio caso è proprio trovare la motivazione perché io mi scoccio facilmente quindi devo avere proprio appunto una motivazione super super valida che possono essere cioè cioè che gratta la porta vabbè ad esempio quando è stato del liceo è perché mi sono rimasta in testa le parole della prof e tuttora me le ricordo quando è stato del test semplicemente non volevo ripagare e quindi ci ho messo tutta me stessa perché non volevo pagare altri soldi alla motorizzazione e quindi ho bisogno veramente di appunto una motivazione non mi viene un termine differente per dirlo perché altrimenti non sarei così costante non sarei così determinata poi terza frase sempre da Valentina secondo me vorresti leggere di più ciò che hai tempo, modo di leggere di fare effettivamente ok l'avevo scritta un po' male quindi secondo lei vorrei leggere di più di quello che faccio allora sì perché tipo quest'anno ancora non ho letto praticamente nulla non ho terminato nessun libro però allo stesso tempo sono io che mi limito dal farlo perché ad esempio ieri ho dato il mio ultimo esame all'università che non so ancora commentato però speriamo bene e quindi apposta non leggevo perché avevo paura che leggere un libro potesse farmi dimenticare quello che stavo studiando che non so se ha molto senso però io sono molto scaramantica sugli esami pensate che metto la stessa maglietta da tre anni a tutti gli esami ovviamente lavata per farvi capire e quindi ho anche altri riti tra virgolette ovvero non poso i libri e le dispense prima del voto dell'esame non esco dal gruppo whatsapp della materia prima dell'esito dell'esame e appunto mi vesto sempre allo stesso modo e non leggo prima di un esame questi sono i quattro rituali che io faccio per passarlo quindi diciamo che Valentina ha indovinato praticamente tutto però al 50% nel senso che tutto quello che ha detto è vero però soltanto in determinate occasioni quindi brava Valentina mi conosce abbastanza poi l'ora che saluto mi dice secondo me sei una persona determinata ecco nel senso se proprio il premio è altissimo è bellissimo se quello che c'è in palio ha veramente valore allora sì altrimenti altrimenti sono la persona più pigra e procrastinatrice del mondo ad esempio adesso con le guide mi sto impegnando tantissimo guido ogni giorno praticamente con il mio ragazzo e perché in palio c'è la patente che per me significa tante cose e quindi ci tengo però quando fu del test la prima volta già io ho fatto passare due anni sia per l'ansia però al di là di quello proprio mi scocciava e perché comunque pensavo all'università da voi gli esami lavoravo già non avevo proprio voglia a fine serata di mettermili a studiare e ma perché appunto non avevo questo premio così intrigante che era poi il foglio rosa però ora la patente è un'altra cosa comunque sempre d'ora mi dice tendi a dire meno bugie possibili perché ti dispiace quindi stai attenta alle due azioni sì è vero però alcune volte bisogna dirle proprio per non ferire l'altra persona io non faccio riferimento ad esempio alla mia vita romantica e perché nella mia relazione non ci diciamo bugie per fortuna perché non sarebbe una relazione se non intendo nella vita in generale cioè magari fai un complimento che in realtà non ci credi neanche tu però per fare stare meglio la persona oppure magari ti interessi a delle cose che in realtà non te ne prega niente soltanto per fare contenta l'altra persona quindi sì dai terza frase sempre di dora secondo me sei tranquilla e paziente tranquilla sì paziente no non molto io se voglio una cosa la voglio subito se devo fare una cosa la voglio fare subito e quindi no non sono paziente andiamo avanti scusate la frase di dora continuava cerchi spesso di trovare il lato positivo nelle cose speri davvero che quel qualcosa di bello ci sia e succeda assolutamente vero io ormai sono due anni che provo a vivere la mia vita guardandola con un occhio positivo e devo dire che funziona cioè fatelo perché vi sentirete meglio anche voi e quindi sì questo è vero brava dora poi passiamo a Barbara che saluto Barbara dice secondo me la fobia delle vespe e dei calabroni fobia nel senso che scappo no cioè se li vedo scappo no fobia nel senso che mi nascondo tipo le orecchie sì perché io ho veramente tanto fastidio nel sentire i rumori tipo le mosche le api i calabroni tutto quello che fa il ronzio cioè mi manda fuori di testa però non ce la faccio e quindi non è proprio paura cioè impazzisco mi dà proprio fastidio e quindi per quello invece sono animali di cui ho davvero la fobia e non ridete perché molti mi prendono in giro sono le falene e le farfalle cioè sono di una bruttezza al di là delle alisi bellissimo che hai mai in faccia sono un'oscenità soprattutto le falene io una notte quest'estate questa me la racconto allora praticamente stavo dormendo io di fronte cioè io dormo qui in questo lato e qua di fronte ho un armadio con lo specchio e dormo con mia sorella dall'altro lato e Joy dove ci sta il peluche più o meno qua e praticamente mi sveglio alle tre di notte ovviamente l'estate quindi dormiamo con le finestre aperte guardo lo specchio e c'è una falena grande così nera sullo specchio io ancora tutta assonnata per non dire altro ce la guardo sconvolta così questa cosa inizia a volare allora io scappo sveglio mia sorella usciamo dalla stanza e inizia a chiamare Joy per farla uscire invece Joy ha deciso di saltare per tutto il letto perché poi lei si è messa a volare qui sopra e lei ha saltato tutto il tempo sul letto perché voleva prenderla alla fine siamo riuscite a recuperare Joy la falena è rimasta chiusa qui scusate il mio stomaco ho fame fino all'indomani finché poi non l'ho ritrovata più ma penso sia uscita perché avevo lasciato la finestra aperta poi un'altra volta ero in salotto da me e praticamente vedevamo Joy particolarmente interessata ad un punto della casa di solito lei non non si è vicina lì quindi abbiamo pensato ci fosse qualche insetto però noi controllavamo non c'era niente praticamente noi abbiamo una specie di mappa mondo che è un portale cuori e dietro c'è il muro e lei prova ad infilarsi lì dentro quindi boh cioè guardavamo così ma non si vedeva niente e abbiamo continuato la nostra serata quando poi è diventata molto insistente io per sé per no me ne sono andata che poi ad un certo punto mi sono decisa di andare a controllare e c'era una falena enorme enorme lo stesso colore del pavimento ed era quella tipo con tutti i peli ma io vi giuro sono morta e niente dopo che l'ho vista Joy l'ha vista quindi ha provato a prenderla questa cosa si è messa a volare e io sono scappata e me ne sono andata ops mi sono chiusa in un'altra stanza e per fortuna poi c'era il mio ragazzo con mio zio e l'hanno fatta uscire ma c'è un infarto preso perché sta cosa cioè io vi giuro mi era la nausea a pensarci poi e vi racconto l'ultima poi andiamo avanti ma forse questa ve l'ho raccontata non c'entra con le falene io ho paura anche dei grilli e cioè tipo scaravaggi cos'è il genere no fermi non mi fanno nulla ma queste cose che saltano che volano proprio non ce la faccio praticamente eravamo giù perché dove abito io c'è uno spazio in cui Joy può stare libera per giocare e praticamente non eravamo lì e e vediamo non so se era un grill o una cavalletta sinceramente eravamo al buio però facevo rumore quindi far solo una cavalletta non lo so non sono esperta comunque praticamente Joy la zanna se la mette in bocca e sta cosa inizia a fare tantissimo rumore ovviamente e Joy io corro e Joy è convinta che io stessi giocando inizia ad inseguirmi con questa cosa in bocca per fortuna anche qui c'era il mio fidanzato io me ne sono andata e l'ha recuperata lui poi la cavalletta barra grilla è stata liberata però niente cioè di cosa ne sono successe oppure e vi giuro è l'ultima una volta stavo passeggiando sempre giù col mio ragazzo stavamo tenendo Joy e una cavalletta enorme cioè vi giuro era tipo così una cosa un mostro gli è finita sulla maglietta vabbè inutile dire che gli sono scappata eccetera eccetera ma avesse preso me io sarei morta probabilmente sarei ancora lì comunque hai praticamente indovinato Barbara poi seconda frase sempre da parte sua secondo me con tua sorella voi d'accordo? sì nel senso che abbiamo un rapporto normale ci vogliamo bene li tigniamo io le rubo i vestiti cioè tutto normale poi la Benny mi dice ti piace che saluto ovviamente ti piace studiare e ti mancherà farlo dopo la laurea assolutamente sì studiare una certezza che ho nella vita cioè è quel porto sicuro che non mi fa sentire totalmente in balia del futuro e della vita quindi sì infatti io dopo la triennale farò la magistrale dopo la magistrale farò i master e dopo non so cosa farò ma sono abbastanza sicura di non fermarmi cioè di lavorare e studiare al contempo se mi sarà possibile altrimenti studierò cioè lavorerò e basta e però sì al momento sì assolutamente nonostante io alle superiori alle medie odiassi studiare io non ero la secchione di turno in terza media avevo sette insufficienze e e anche a liceo non è che splendessi proprio però e mi piace studiare cioè mi piaceva studiare soltanto le materie che dicevo io ma perché le altre non le capivo cioè tipo matematica non la capivo fisica non la capivo e e quindi adesso che studio tutto quello che mi piace amo veramente studiare poi cristian che sarebbe il mio fidanzato e che saluto mi dice secondo me ti piace più la pizza del sushi e so che questa è una provocazione perché lui sa benissimo che amo il sushi rispetto alla pizza e poi mi dice ti piace stare molto sul divano grazie amore ma no non mi piace stare molto sul divano cioè prima un po' di più ma adesso preferisco uscire muovermi fare qualcosa e e niente poi mi dice secondo me sei fidanzata sì è vero sono fidanzata da tre anni ovviamente saluto anche Lea e e niente siamo fidanzati da tre anni ci conosciamo da aspettate devo fare il conto da sette anni forse perché ci siamo conosciti alla seconda liceo quindi seconda terza quarta quinta e poi dopo la quinta ci siamo messi insieme quindi prima università seconda terza sì da sette anni ci conosciamo un mio di un sacco di tempo l'ultima supposizione viene da parte di Andrea che saluto e mi dice secondo me sei una youtuber speciale fantastica e dolcissima io questo non lo posso confermare potete dirmelo solo voi ma comunque ringrazio saluto Andrea e niente il video termina qui in questo momento sono a più di mezz'ora di registrazione ma perché sono più i tempi in cui ho stoppato per il casino che c'era che effettivamente è quanto ho parlato quindi niente io vi ringrazio di far parte di questa famiglia da due anni e sono contenta di aver intrapreso questo percorso mi ha dato tante soddisfazioni e soprattutto mi ha dato la possibilità di conoscere tantissime persone che ad oggi possono reputare amiche perché ad esempio con Valentina io ci tengo davvero a lei ci sentiamo ogni giorno e ci organizziamo anche perché in futuro vorremmo vederci e quindi sono veramente contenta e ovviamente ringrazio voi perché senza di voi probabilmente avrei staccato molto prima perché se nessuno mi seguiva probabilmente mi sarei sentita un po' una scema e e niente io vi ricordo di iscrivervi al canale di mettere mi piace e di commentare se volete supportarmi gratuitamente altrimenti potete usare i super grazie oppure farmi un regalo dalla wishlist io vi ringrazio nuovamente e noi ci vediamo credo o venerdì o martedì non so quando uscirà questo video comunque con un prossimo video grazie e buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti